Credo che ormai questa provocazione continua sia stata finalmente svelata e credo che lui stia confermando che il suo vero problema sono gli esseri umani, non i neri o i bianchi, i padermitani o i pakistani, sono gli esseri umani. Si fermi un secondo a riflettere per evitare di continuare a far danno e a cercare di vivere sfruttando un clima di paura. Noi a Palermo non abbiamo paura, abbiamo cura di chi è diverso da noi, abbiamo cura del nuovo, abbiamo cura del futuro. Lui invece, davvero populista, viva la giornata con un tweet, uno slogan e un insulto.